Ciao a tutti ragazzi, sono Cixi e sono a Cubo Musica, che è forse l'unica piattaforma italiana che davvero sta spopolando e sono molto felice di essere qui. Farò una playlist in questa puntata, qui c'è Marco, sono molto felice che sia vicino alla playlist di Marco, che fortunatamente ha vinto, ti fa un sacco per Marco. Niente, farò questa playlist e soprattutto dobbiamo stare sempre con Nect, perché dobbiamo spaccare, dobbiamo spaccare e Cubo Musica spacca. Tutta la musica, su Cubo Musica Stay Cixi